Io ho sentito che lei diceva delle cose importanti e interessanti per il settore del mondo del lavoro, dobbiamo dire non solo del cinema, ma della possibilità di creare un database per mettere insieme diverse figure e soprattutto per aprire una pagina diversa. Dunque, noi consigliamo alle maestranze calabrese, agli artisti calabresi, di andare sul sito della Calabria Film Commission e di registrarsi come attori, come sceneggiatori, come registi, come direttori delle fotografie, come truccatori, come costumisti, assistenti costumisti, location manager, autisti, chi più ne ha più ne metta, nella vostra specialità. Perché noi abbiamo bisogno del vostro consenso al trattamento dei dati personali. Perché quando ci chiamano le produzioni da fuori e ci dicono avete una truccatrice? Sì, sulla short list non possiamo dare i nomi se voi non ci date l'autorizzazione a farlo. Quindi vi consigliamo ovviamente di andare sul sito e di registrarvi. Che cos'è sta cambiando per quanto riguarda la Film Commission in Calabria? Sta cambiando che noi abbiamo un commissario straordinario che si chiama Giovanni Minoli e Giovanni Minoli ha già fatto, nel senso che a parte la sua reputazione come giornalista, che sappiamo, noi siamo noi, Mixer, etc., Rai Educational, direttori di Rai 2. Lui è anche un manager televisivo e questa è la cosa importante. Allora lui, dopo aver fatto 25-26 anni fa il Posto al Sole, che attualmente dà in Campania lavorano direttamente o indirettamente a quasi 8.000 persone, ripeto il numero, 8.000 persone, considerano anche il fatto che le comparse che hanno lavorato al Posto al Sole negli ultimi 26 anni sono 69.700, ripeto il numero, 69.700. Lo stadio Maradonna San Paolo, chiamato come volete, pieno. Ecco, questo è costruire gli studi televisivi e cinematografici nell'ex area serra di La Mezzia Terme che è strategicamente vicino all'aeroporto, vicino alla stazione, vicino all'autostrada per permettere lo sviluppo dell'industria cinematografica e televisiva in Calabria e in tutto il sud dell'Italia, ovviamente. C'è anche l'impegno da parte della Regione Calabria? La Regione Calabria è stata, a dir poco, fantastica, perché quando le cose le fanno bene bisogna anche dirle le cose. Allora, noi senza l'aiuto di Spirli e dei suoi più stretti collaboratori non avremmo potuto fare questo progetto, nel senso che loro hanno dato una corsia preferenziale vedendo la progettualità di questo progetto, progettualità del progetto e hanno detto che questa è una cosa che interessa la Regione, interessa la Calabria interessa i giovani, interessa il futuro di questa Regione e ci hanno aiutati in tutti i modi possibili ed immaginabili con la burocrazia, le scartoffie, eccetera, eccetera, eccetera quelle cose che di solito mettono le pastoie sono state risolte brillantemente. Grazie a tutti.